Eccoci collegati, buon pomeriggio a tutti, bentornati a questo webinar organizzato in collaborazione con Fontobel. Io sono Pierpaolo Scandurra e do il benvenuto in collegamento ad Alessandro Cassiani. Ciao Alessandro. Ciao Pierpaolo, buonasera a tutti. Eccoci quindi tornati a questo nostro incontro in collaborazione appunto con Fontobel per parlare dei certificati. Oggi vedremo un bel po' di idee naturalmente già quotate, un paio sono di recente emissione, altri sono in quotazione da un po' di tempo e possono offrire comunque degli spunti interessanti sia in ottica di breve che eventualmente di mantenimento in portafoglio. Ricordo a tutti coloro che sono già collegati, nel frattempo si stanno aggiungendo anche altre persone. Ricordo a tutti che il webinar è in fase di registrazione, pertanto sarà possibile rivederlo già da domani sul nostro canale Telegram, certificati e derivati e soprattutto vi ricordo la possibilità di interagire con noi e quindi scrivere attraverso il pannello che è sulla destra del vostro monitor. C'è un riquadro domande, lo staccate dal pannello e potete scrivere. Naturalmente come sempre cercheremo di dare risposta a tutti o almeno cercare di dare risposta a tutte le domande che arrivano, se poi non ci si dovesse riuscire provvederemo magari a farlo anche in un secondo momento. Veloce panoramica di ciò che è accaduto nel corso della giornata, questa è un po' la situazione, vediamo oggi una giornata dove in maniera un po' inconsueta rispetto a ciò che sta accadendo ormai dal 2 febbraio, il nostro indice, il Futsimib, oggi è stato finora, o meglio è chiusa la borsa, quindi è stato il peggiore sia in Europa ma anche nei confronti dell'America, pesa in particolare sul nostro listino pesano due temi che sono poi tra l'altro anche quelli che sono preponderanti all'interno dell'indice, ovvero il settore bancario e quello petrolifero. Il settore bancario particolarmente pesante, oggi Unicredit meno 3,30, almeno poco prima della chiusura, adesso vado subito a vedere qual è stata la chiusura, con quasi meno 3,36, in Tesa San Paolo meno 1,63, ma insomma un po' tutto il settore bancario, si torna a parlare ancora di dividendi che potrebbero essere ulteriormente rinviati, già sappiamo che per questo 2021 saranno in ogni caso molto più bassi rispetto a quello che è sempre avvenuto, in particolare i titoli a più alto dividend yield come ad esempio in Tesa San Paolo distribuiranno sì un dividendo, ma comunque decisamente basso rispetto a quello a cui siamo stati sempre abituati. Ora si è tornati a parlare nel corso delle ultime 24 ore dell'ipotesi di ulteriore rinvio del ritorno alla normalità. Nello stesso tempo però c'è chi, c'è qualche casa di investimento, qualche casa d'affari che ha rilasciato dei giudizi positivi, ad esempio proprio su Intesa San Paolo, sulla possibilità di tornare a pagare dei dividendi nell'ordine di un otto e cinquanta annuo di dividend yield. Però ecco questa notizia si è scontrata subito dopo con nuove preoccupazioni da parte del mercato sul fatto che questi dividendi potrebbero non essere pagati ancora per il 2022. L'altro tema è invece il petrolio, negli ultimi giorni si è tornato nuovamente a parlare di curve di contagio che nonostante i vaccini vadano avanti, curve di contagio che stanno appesantendo ancora il tema delle ripartenze, quindi il settore turistico e inevitabilmente anche il petrolio. Pertanto petrolio che nel corso ad esempio della giornata di lunedì quando i nostri mercati erano chiusi almeno in Europa ha segnato un ribasso del quattro e mezzo per cento, poi c'è stato un po' di ripresa. Oggi i titoli petroliferi hanno pagato comunque Dazio con una perdita di circa il due per cento, due e cinquanta su Tenaris, due per cento su Eni. Storia un po' diversa, Saipem è un po' in controtendenza perché da questa mattina è stata rilasciata un giudizio di outperform da parte di Mediobanca che la vede comunque in grado di sovraperformare un po' il settore. Questo è ciò che è accaduto nel corso della giornata, almeno i temi più interessanti e quindi poi ecco c'è l'America, l'America che continua a fare nuovi massimi, anche qui però attenzione perché la crescita soprattutto del Nasdaq che in qualche modo poteva essere attesa, la prossima settimana potrebbe incontrare qualche problema anche in virtù delle scadenze e quindi insomma attenzione naturalmente ad andare sempre in maniera un po' più prudente. Detto questo, comunque si continua a viaggiare sempre su livelli molto alti. Bene, allora questa è un po' la panoramica, molto rapida, ma insomma un commento veloce di giornata. Ci chiedono il link per rivedere il webinar Francesco, ti potrai collegare da domani sulla canale Telegram, quindi Telegram naturalmente è un'applicazione gratuita fruibile attraverso smartphone, computer e canale Telegram certificati e derivati e potrai rivederlo lì, altrimenti sul nostro canale YouTube, Chad Lab Academy e potrai naturalmente vedere anche in quel caso direttamente da YouTube. Ci segnalano che c'è qualche problema di audio, quindi vado a togliere immediatamente la mia connessione e la mia webcam, qualcuno appunto segnala problemi di audio e vengo da te Alessandro, quindi a questo punto ti affido anche il controllo del monitor, così possiamo iniziare a vedere qualche certificato. Ne abbiamo, faccio un'anticipazione, oggi abbiamo un paio di certificati di recente missione che adesso Alessandro ci andrà a raccontare e poi abbiamo invece qualche certificato selezionato dal nostro ufficio studi. Mi dicono che si sente poco e male, io francamente sono collegato sempre con la stessa linea, sempre allo stesso modo come vedete e purtroppo insomma spero che adesso vada un po' mecco, qualcuno mi dice si sente benissimo, quindi il solito problema che alcuni vanno e alcuni meno. Bene, grazie dei vostri feedback. Benissimo, Alessandro, a te. Ok, allora, come hai detto tu andiamo a vedere innanzitutto un paio di prodotti di emissione più recente, per cui abbiamo questi due nuovi memory cash collect, per cui una struttura abbastanza comune che abbiamo già visto in diversi esempi e successivamente andremo a parlare di quei prodotti sul mercato secondario che siamo andati a selezionare insieme a Pierpaolo e che rappresentano appunto delle occasioni di investimento per determinati motivi a partire dal prezzo ai livelli dei sottostanti. Il primo di cui andiamo a parlare è questo cash collect che ha come sottostante un basket composto da H&M, Under Armour e Zalando, che sono appunto tre società operanti nel settore dell'abbigliamento, in particolare H&M è una catena appunto, penso un po' tutti la conosceranno, di abbigliamento, mentre Under Armour si occupa di abbigliamento in ambito sportivo e Zalando appunto e-commerce ma anche in parte negozi fisici. Il prodotto ha un Aisin che è Domodossola-Empoli, tre volte zero, Verona quadro 5, 5-2, Napoli 9. La durata è di due anni, è stato emesso la settimana scorsa e ha una barriera autocall del 100% e una barriera premio e capitale osservata solamente a scadenza, per cui una barriera di tipo europeo posta al 60% dello strike iniziale. Il premio trimestrale è abbastanza elevato in questo caso, si tratta di un premio appunto trimestrale di 4,18 euro per un rendimento annualizzato del 16,72%. Il funzionamento durante la vita del prodotto appunto alle date di valutazione intermedie, in questo caso la prima è il 28 giugno prossimo, qualora tutti e tre i sottostanti dovessero avere un livello pari o superiore alla barriera di rimborso anticipato, per cui a livello di autocall il certificato scadrebbe, verrebbe rimborsato anticipatamente pagando il nominale più la cedola per un totale di 104,18 euro, mentre invece qualora tutti i sottostanti dovessero essere sia al di sopra della barriera premio del 60% ma anche uno al di sotto della barriera autocall verrebbe pagata alla cedola e si proseguirebbe fino alla data di scadenza successiva. Ecco in questo caso appunto il tema di investimento è proprio quello del settore dell'abbigliamento che può essere anche visto in ottica di ripresa dei consumi e delle spese e di un eventuale come viene chiamato ultimamente revenge spending dato appunto da tutte le restrizioni che ci sono state nel corso di questo ultimo anno a causa come sappiamo tutti della pandemia e che potrebbero spingere i consumi una volta diciamo qualora si dovesse tornare alla normalità soprattutto appunto per il settore dell'abbigliamento. Il secondo prodotto... Alessandro scusami prima che vai avanti ci sono innanzitutto una domanda che ti faccio io perché stavo guardando è arrivata una richiesta sulla volatilità di questi sottostanti quindi stavo cercando ti chiederei conferma eh H&M è il titolo quotato a Stoccolma quindi in corone svedesi? Eh sì possiamo andare a controllare direttamente dal kid per avere la la certezza in questo caso era così e poi la correlazione tra i sottostanti del certificato vedi insomma ormai giustamente eh eh le le domande sono anche più avanzate no quindi e questo mi sa piacere quindi chiedono la correlazione tra i sottostanti e questo naturalmente adesso magari la posso andare a vedere io ehm la volatilità e questa me la dico subito adesso tendoniamo solo sì come vediamo qui dal dal mio schermo quindi dal kid eh il sottostante in questo caso di H&M è quello eh appunto in corone svedesi però eh tengo a sottolineare che ehm i nostri cash collect godono dell'opzione quanto che diciamo ehm limita e diciamo isola il rischio di cambio e quindi non si è esposti a a questo rischio e gli altri sottostanti appunto sono eh Zalando appunto il titolo tedesco mentre Under Armour quello americano e se vuoi possiamo vedere le altri gli altri dati appunto che erano stati richiesti non so se ti passo ti riprendi lo schermo? Sì magari posso prendermi un attimo lo schermo così lo vediamo anche assieme eh così allora questo è eh il grafico di di H&M ehm e soprattutto possiamo vedere la volatilità sia storica che implicita a trenta giorni quindi grafico di H&M in linea gialla eh lo vediamo qui duecentoventitré corone il sedici marzo ha subito questa fase correttiva siamo a cento novanta cento novantanove una volatilità implicita del venticinque per cento più o meno in linea con la volatilità storica a cinquanta giorni per quanto riguarda Under Armour abbiamo una volatilità invece implicita decisamente più alta titolo statunitense 44 per cento di volatilità implicita in questo momento con dei picchi anche importanti comunque titolo anche qui in leggera flessione rispetto ai valori di metà marzo e per quanto riguarda Zalando invece eh quotato sul mercato tedesco eh cento due euro il massimo toccato a metà febbraio adesso siamo a ottantasette quindi un ribasso di circa il quindici per cento volatilità implicita del quaranta per cento diciamo che questi elementi eh che stiamo vedendo assieme giustificano anche eh un po' il il premio comunque consistente di un certificato perché Alessandro ci dicevi è oltre il quattro per cento a trimestre corretto? Esattamente il rendimento è come diciamo abbastanza elevato si parla del quattro virgola diciotto trimestrale e appunto eh per poter costruire un prodotto del genere eh bisogna appunto andare a cavalcare un po' quella che è la volatilità dei sottostanti soprattutto quando si parla poi di barriere anche abbastanza profonde in questo caso eh riusciamo a tollerare una perdita fino al quaranta per cento per cui una barriera posta al sessanta per cento e un rendimento eh appunto abbastanza elevato è chiaramente dato dal fatto eh da quanto abbiamo appena detto. Ecco sulla correlazione e questo è realtà l'altro elemento lo stiamo vedendo in diretta diciamo una correlazione effettivamente particolarmente bassa ma anche qui spieghiamo il motivo per cui si riesca a pagare dei premi importanti cioè vedo che effettivamente la correlazione eh sullo zero zero cinque questi sono un po' tematiche che tipicamente non si raccontano quando si vedono i certificati perché perché sono forse un po' troppo tecniche però al netto di quello che può essere poi la valutazione che se ne può fare eh è spiegato in questo caso appunto il perché il certificato possa pagare dei premi così interessanti. Prima autocall a giugno o a settembre e poi ehm il trigger cedola se possiamo ricordare. Allora il trigger cedola era al sessanta per cento allora un attimo che riprendo il kid era allora qui vediamo tutti i dati allora per quanto riguarda eh H&M ehm parlavamo di appunto cento diciannove e cinquanta eh sempre pari al sessanta per cento rispetto allo strike a livello di autocall per quanto riguarda Under Armour dodici e novantotto e per quanto riguarda Zalando cinquanta e settanta quattro. Quindi il sessanta per cento insomma. Esatto il sessanta per cento la struttura è costante cioè non c'è uno step down o step up di di nessun tipo per cui è fisso. Perfetto poi la prima data autocall giugno o settembre quindi primo trimestre la vediamo qui è da giugno da giugno quindi già giugno potrebbe rimborsare e a quel punto se i titoli salissero il rimborso sarebbe pari a cento quattro virgola diciotto quindi esattamente ok e poi ehm un'altra domanda il fixing iniziale quando è stato fissato lo vediamo sempre qui dal kid c'è tutto venticinque marzo duemilaventuno quindi esattamente. Oh e quanto quanto quota oggi questo certificato? Allora lo prendiamo in diretta oggi ha chiuso a novantanove e due. Ok puoi ridarmi l'isin al volo Alessandro me lo scrivo qui di e tre zeri? Di e tre zeri lo vediamo anche sullo schermo Verona quadro cinque cinque due Napoli nove. Ok perché ci hanno chiesto se possiamo vedere eh l'analisi di scenario sul chat lab comprensiva di di cedole e quindi a questo punto mi riprendo eh un attimo il monitor oggi facciamo un po' alterniamo allora questa è la situazione attuale del basket quindi H&M il peggiore appena sotto insomma meno zero venti ventotto rispetto allo strike iniziale Zalando più tre venticinque Under Armour più quattro e settantadue quotazione lettera novantanove euro all'incirca non so se era un prezzo retail o il market maker adesso da qui non lo capisco ma comunque sotto la pari in ogni caso e analisi di scenario comprensiva di cedole eh quindi rendimento potenziale del trentaquattro e settantanove per cento che a due anni esatti vuol dire comunque un diciassette per cento anno quindi era la somma poi alla fine di tutti i premi trimestrali essendo quotato sulla pari e essendo il titolo più atteso strike anche la barriera questa era abbastanza facile ecco diciamo così perché comunque titolo su strike e certificato sul sul nominale quindi qui non era difficile e il fatto che i sottostanti sono quotati su mercati diversi incide sul certificato no appunto Alessandro ci ha spiegato che essendo un prodotto con opzione quanto eh il fatto che siano quotati su mercati differenti non va ad incidere sul damento del certificato perché si prendono i valori in assoluto e quindi questo era per il primo bene andiamo a vedere il secondo a questo punto e nel frattempo ti leggo una domanda che non so se ti può dare qualche spunto qualche certificato tranquillo con uno o massimo due sottostanti eh io te l'ho letta così se ti viene in mente qualcosa nel frattempo magari dopo possiamo farlo vedere certamente avremo modo di vederlo magari anche successivamente insieme a quelli che abbiamo selezionato allora invece per quanto riguarda il secondo prodotto che appunto di emissione un po più recente si tratta sempre di un cash collect con una struttura molto simile a quella che abbiamo visto prima su questa volta su tre titoli italiani per cui Enel, Stellantis, STM, tre titoli appunto che fanno parte anche del nostro indice che ha fatto registrare delle performance notevoli ultimamente e che ha una barriera appunto in questo caso sempre strike e barriera autocall posti al cento per cento qui vediamo anche i livelli 8,407 per Enel, 14,26 per Stellantis, 31,24 per STM e la barriera premio e capitale anche qui sono uguali la barriera capitale è sempre osservata la scadenza ed è pari sempre al 60 per cento in questo caso eh titoli un po meno volatili appunto già che si parlava di volatilità rispetto a prima andiamo a a prendere un premio trimestrale di 2,88 per un rendimento annualizzato dell'11,52 per cento il funzionamento è lo stesso di qualunque cash collect o express che dir si voglia e anche in questo caso gli scenari sono gli stessi per cui prima dalla divalutazione giugno se appunto abbiamo tutti i sottostanti sopra sopra il livello di autocall rimborsa il nominale più la cedola mentre altrimenti viene pagato il premio del periodo e si va alla alla data di valutazione successiva l'Aisin ripetiamolo è Domodossola Empoli tre volte zero Verona quadro cinque cinque due Palermo quattro bene ehm giustamente qualcuno dice ma gli strike sono alti perché presi nel momento in cui la borsa è cresciuta molto eh purtroppo questo è un po' il problema paradossalmente di quando il mercato sale e che poi non è che poi i prodotti smetti di farli no perché poi magari il prodotto che oggi è stato emesso e che ha lo strike alto se dovesse esserci una correzione o comunque una discesa nelle prossime settimane automaticamente diventa interessante perché lo compri sotto la pari magari le barriere si riducono però eh il margine insomma voglio dire alla fine purtroppo è un po' l'inconveniente di quando il mercato sale con bassa volatilità e mh visti i rialzi non è il caso di fare qualche certificato ribassista ci chiedono non so Alessandro se vogliamo magari rispondere al al di là del fatto se se già ci sono se in genere Fontobel li fa però cosa ne pensi? No sicuramente sarebbero delle strutture molto interessanti purtroppo al momento i cosiddetti reverse per cui reverse bonus o reverse cash collect non rientrano nel appunto nella nostra gamma di prodotti ma è qualcosa su cui già stiamo lavorando visto che appunto eh non è la prima volta che ci viene segnalato e ci siamo messi al lavoro per per implementare queste strutture anche anche noi ecco bene quanto vale questo ci chiedono? È l'ultimo che abbiamo visto? Questo aveva una quotazione intorno alla pari sui 100 se non erro possiamo rivederlo eccolo qui ha chiuso a 100.7 e anche in questo caso il trigger cedula al 60% sì mi sembrava di averlo visto così confermiamo ok va bene allora ehm tu hai qualcosa da farci vedere Alessandro? Allora secondo me possiamo andare direttamente su quelli che avevamo visto insieme così possiamo possiamo anche vedere insomma analisi di scenario oppure allora mi riprendo lo schermo innanzitutto prima di vedere quelli mh prima quando ci è stato chiesto un certificato tranquillo con due sottostanti Giacomo ha dato un Aisin e me lo sono andato a guardare ed effettivamente è un certificato tranquillo tranquillo però ne approfitto perché perché comunque bisogna fare attenzione eh naturalmente forse Giacomo l'ha già fatta questa considerazione da avendo dato l'Aisin però insomma ne approfitto e lo faccio vedere lo stesso perché perché è vero questo è un certificato che si può considerare tranquillo ha una barriera al cinquantasei per cento del livello iniziale quindi barriera per il premio cinquantasei per cento barriera sul capitale ugualmente in questo caso sempre al cinquantasei per cento pertanto nasce effettivamente come certificato con caratteristiche difensive però eh a meno che ci sia un errore nella mia scheda e per questo poi Alessandro ti chiedo eventualmente di di confermarmelo ehm già il tre maggio adesso potrebbe andare in autocall rimborsando cento uno eh virgola zero cinque perché perché comunque la condizione per il rimborsante ci vado è che i trambi titoli siano sopra lo strike iniziale e questa è la situazione attuale cioè abbiamo Ferrari a più quattro per cento e è nella più uno e sessanta quindi è vero che è tranquillo il problema è che comprandolo oggi a cento uno virgola venti paradossalmente rischio addirittura di perderci cioè quindi attenzione perché cercando troppa tranquillità se va in autocall qui si rischia di fare un autocall e quindi ehm se la prima data di rimborso anticipato è effettivamente questa ecco è troppo difensivo quindi vuol dire che insomma troppo che è interessante no quindi Giacomo attenzione se ce l'hai in portafoglio a considerare questa eh questa situazione comunque il sul sito vediamo qui condizioni definitive possiamo aprire direttamente le il kid così lo vediamo e eh data di rimborsa anticipata la prima effettivamente è già maggio duemilaventuno quindi ecco attenzione eh ed è effettivamente così grazie a te Giacomo che non volendo comunque hai permesso di di far notare questa cosa e quindi niente poi eventualmente cerchiamo o qualcos'altro di tranquillo però iniziamo invece a vedere qualche certificato poi c'è una c'è una domanda che riguarda un strumento legato a unicredit di cui ho parlato nell'investiv di lunedì e quindi dopo ci andiamo vediamo invece qualche idea selezionata sul secondario quindi vado a prendere l'aisin lo inseriamo qui così abbiamo anche direttamente il calcolo delle delle cedole certificato classico cash collect memory emissione di un anno fa circa un anno e un mese ehm certificato che paga cedole semestrali dell'otto e sessantasette per cento quindi erano altri tempi Alessandro no? Perché marzo duemilaventi la volatilità era decisamente diversa qui otto e sessantasette a semestre e barriera cinquanta per cento sì sicuramente in questi casi il timing appunto dell'emissione fa fa la differenza soprattutto quando abbiamo eh titoli appunto che sono stati travolti in particolare da dalla pandemia se consideriamo anche il periodo in cui è stato emesso è chiaro che eh è stato appunto ho scelto un ottimo timing che è stato in grado di di sfruttare la volatilità al momento dell'emissione e questo sicuramente è un fattore che eh in fase di di pricing di di emissione dei prodotti ci permette di di strutturare un certificato che è in grado comunque di pagare di rendimenti molto elevati eh nonostante appunto le barriere siano molto profonde eh e diciamo permette di di fissare una cedola un rendimento annuo per tutta la durata del prodotto grazie appunto al timing proprio nelle emissioni. Ecco stavo per curiosità stavo guardando il certificato è partito praticamente eh e come è nato è crollato perché poi eh i titoli del settore delle airlines eh sono chiaramente crollate in quel periodo e quindi vedo che qui in pochissimi giorni dall'otto marzo fino ad arrivare al diciannove marzo il certificato si è quasi dimezzato è arrivato a cinquantotto euro e quello forse è stato il momento il momento sicuramente migliore perché si comprava a un a un basso prezzo ma questo insomma sono argomenti che abbiamo già trattato diffusamente quindi certificato che ha passato tutto eh il tutto l'anno eh con con difficoltà evidenti attualmente addirittura in tutti e tre in positivo anche se di poco più zero ottantatre Air France più un e sessanta EasyJet più quattro e ventisette Lufthansa eh certificato che in questo momento quota cento uno euro e quindi sulla data di osservazione prossima che non è immediata è il dieci settembre quindi mancano comunque cinque mesi eh potrebbe rimborsare cento otto virgola sessantasette se questo non dovesse avvenire comunque il pagamento della cedola sarebbe in ogni caso eh diciamo assicurato da una barriera molto profonda al cinquanta per cento e poi a quel punto andrebbe avanti analisi di scenario comunque eloquente allora ci sono sicuramente eh elementi che potrebbero far pensare ad una probabilità sufficientemente alta di rimborso anticipato a a settembre e gli elementi sono chiaramente una prospettiva di potenziale ripresa del settore Airlines almeno o quantomeno non di grandi discese però seppure non dovesse rimborsare anticipatamente tanto male non andrebbe eh perché comunque certificato e paga il sessantotto per cento a scadenza fino a meno cinquanta per cento da adesso quindi se anche non dovesse rimborsare uno se lo tiene in portafoglio e paga bene no poi alla fine con dei rendimenti comunque importanti ci chiedono i numerosi il codice Aisin eccolo qui di E30 Verona Empoli 8X J Ancona 4 allora ci sono un paio di domande che sono arrivate da persone che sono sicuramente anzi tre che sono persone che giustamente sono attente a ciò che sta accadendo in particolare sul settore Airlines nell'ultima settimana ci sono state due notizie che hanno riguardato due dei tre titoli che sono in questo basket una Air France e l'altra è Lufthansa repiroco brevemente poi Alessandro ti ti faccio la domanda che tanto avrei già compreso mh per quanto riguarda Air France eh è arrivato il via libera da parte della Commissione europea a un piano di a quattro miliardi di euro eh che dovrebbe arrivare anche in parte tramite una conversione di un di un prestito e l'altro un piccolo aumento di capitale ma che comunque insomma dovrebbe impattare veramente poco tant'è vero che il titolo ha avuto una reazione positiva eh per quello che riguarda Lufthansa invece la notizia è un po' meno eh tranquillizzante anche se tutto sommato tranne la giornata di oggi gli gli effetti dopo l'annuncio della notizia non sono stati così negativi eh o almeno sono stati assolutamente contenuti ovvero eh Lufthansa ha proposto proporrà ai propri azionisti eh di votare in assemblea il prossimo quattro o cinque maggio adesso la data precisa non la ricordo comunque non è oggi ma sarà tra quattro e cinque maggio di di approvare l'eventuale aumento di capitale un aumento di capitale in realtà un po' più consistente eh che servirebbe per riacquisire con il controllo della società che dopo il piano di salvataggio da nove miliardi di euro che era stato ehm approvato e eh in qualche modo attuato grazie all'intervento del governo eh c'è una parte di questo piano che prevede una maggioranza silenziosa a favore appunto del governo e Lufthansa vorrebbe riacquisire il controllo e e quindi eh ricomprarsi questa maggioranza attualmente definita appunto silenziosa e mh ecco questa notizia potrebbe impattare in maniera un po' più importante essendo un aumento di capitale che potrebbe essere evidentemente un po' più eh elevato eh in entrambi i casi Alessandro fermo restando che anticipiamo che non avrai certamente i dettagli a maggior ragione perché non è neanche certo che ci saranno questi aumenti di capitale però che cosa eventualmente potrebbe accadere quindi siamo nel campo della teoria ecco cosa potrebbe accadere ai certificati che hanno questi titoli come sottostanti? Allora solitamente quando abbiamo appunto operazioni di di finanza straordinaria operazioni sul capitale eh sui titoli sottostanti per cui quando va a cambiare la composizione azionale eh a causa di appunto aumenti di capitale oppure eh dividendi straordinari e così via fusioni e così via eh viene appunto calcolato un fattore di aggiustamento e gli strike e le barriere vengono rettificati in modo tale che fondamentalmente non ci siano grandi effetti su sul certificato anzi in realtà non ci sono eh esatto non grandi effetti non ci siano proprio non ci sono proprio effetti sul certificato esatto per cui fondamentalmente per il possessore di un certificato non cambia queste operazioni appunto non impattano su sulla sua posizione ecco. Ok naturalmente non si sa quale potrà essere eh il tipo di di operazione straordinaria o meglio di rettifica ma comunque si utilizzerà il coefficiente K stabilito dall'IDEM o dall'Eurex in questo caso eh e questo coefficiente K che è praticamente il rapporto tra il prezzo che aveva l'azione prima dell'aumento di capitale e quello che al giorno dell'inizio dell'aumento di capitale questo coefficiente servirà per rettificare al ribasso c'è eh strike e barriere quindi premesso questo cerco di essere estremamente chiaro sulla questione è evidente che un aumento di capitale da un miliardo su Air France mi aspetto che non faccia grande rumore e non porti grandi insomma variazioni negative sull'azione quindi parliamo delle azioni per quello che riguarda l'ustanza potrebbe invece essere un po' più impattante fermo restando che non è un aumento di capitale per sopravvivere è un aumento di capitale per riacquisire la maggioranza o comunque per riacquisire col controllo della società e comunque la l'origine dell'aumento di capitale è importante una cosa è che fai un aumento di capitale perché stai fallendo un altro è che stai facendo un aumento di capitale perché vuoi cercare di ritornare un po' ad avere il controllo in ogni caso l'aumento di capitale immette nuove azioni sul mercato e diluisce quindi il valore delle azioni quindi l'ustanza potrà risentirne in borsa come titolo azionario la risposta è probabilmente sì detto questo non è una regola fissa autogrill di recente ha annunciato un aumento di capitale e non solo non è scesa eppure salita quindi non per forza un aumento di capitale deve essere drammaticamente penalizzante per la società dipende se è molto diluitivo l'origine dell'aumento di capitale questo per dire che quindi potrebbe esserci un effetto sul titolo in particolare sull'ustanza ma proprio per questo guardiamo il certificato con quella caratteristica che stiamo vedendo qui cioè noi abbiamo in questo momento un certificato che stiamo guardando per il potenziale rimborso anticipato a settembre a centotto virgola sessanta sette ma se non dovesse rimborsare perché ad esempio l'ustanza ne risente perde un dieci quindici per cento in borsa il certificato paga ancora le sue cedole fino a meno cinquanta per cento che una società che va che lancia un aumento di capitale per riacquisire il controllo e perde oltre il cinquanta per cento l'ho visto fare solamente anni e anni fa all'epoca di saipem quando lanciò un aumento di capitale devastante qui mi sento di dire che il margine è un po più ampio per questo motivo io il certificato lo ritengo molto interessante non a caso il nostro ufficio studio l'ha selezionato proprio perché se non rimborsa a settembre paradossalmente pure meglio dopodiché michele dice autogrill genera margini piazzesti sì al di là del fatto che comunque anche lì c'erano state dinamiche per le quali l'aumento di capitale era stato richiesto proprio in funzione del fatto che la stessa autogrill non generava più tutti questi margini a causa del covid e dei lockdown ma allo stesso modo ti potrei dire ma questa è solo una riflessione michele quindi condivido quello che dici ti potrei dire l'ustanza ad oggi non sta facendo niente perché è ferma praticamente da qui a qualche mese superata la scure dell'eventuale aumento di capitale potrebbe si spera ripartire quindi in entrambi i casi ma ripeto comunque stiamo ragionando di non di comprare le azioni ma di comprare un certificato che fino a meno cinquanta per cento da oggi tra l'altro è anche un po più del cinquanta perché l'ustanza è il best off del basket anche se di poco voglio dire alla fine potrebbe potrebbe pagare anche fino a meno cinquanta e paga bene a questo punto non conviene comprarlo dopo l'aumento di capitale roberto sì cioè sì potrebbe essere il caso magari di tenerlo lì tanto voglio dire non è che scappa cioè se l'ustanza sale da qui ad un mese il prezzo naturalmente sale e perché si avvicina alla probabilità di rimborsa anticipato però certo che questa può essere tranquillamente un'altra tattica attendista cioè piuttosto che in comprarla oggi te lo metti in watchlist e poi si aspetta da qui al cinque maggio se poi il cinque maggio questo aumento di capitale tra l'altro non viene deliberato servirà una maggioranza semplice però se non viene deliberato poi alla fine magari il titolo non scende neanche però ripeto la considerazione è sempre su una barriera molto profonda se certi se il sottostante non è il peggiore un certificato generico non è risente ecco alessandro approfitta di questa domanda perché questo è un tema che spesso ritorna e quindi ti chiederei di volerci raccontare questo poi andiamo a vedere gli altri due tre certificati e dei basket sappiamo che comanda il peggiore il worst of ma vuol dire che gli altri non hanno nessun ruolo cioè praticamente se l'ustanza oggi sale o scende del tre o quattro per cento cioè ha comunque un ruolo nel certificato perché non è che comanda unicamente il peggiore giusto? No chiaramente soprattutto quando abbiamo appunto come in questo caso tutti e tre i sottostanti al di sopra si va a considerare non solamente il peggiore ma appunto la perforza chiaramente il peggiore tra virgolette guida nel momento in cui si va a a superare una barriera a ribasso ma comunque diciamo che facciamo un esempio se c'è un solo titolo sotto la barriera o sotto lo strike la probabilità del pagamento è più è comunque più alta rispetto a una situazione in cui abbiamo tutti i sottostanti al di sotto non so se mi sono spiegato eh Pierpaolo sì sì diciamo che naturalmente comanda il peggiore per stabilire effettivamente se poi vengono pagati i premi se c'è la protezione quindi più il peggiore è distante dagli altri e addirittura sotto barriera è più il suo delta quindi il peso che ha nel basket è più elevato in questa situazione dove sono tutti e tre abbastanza simili quindi il delta non sarà perfettamente trentatré trentatré periodico però insomma anche gli altri hanno un ruolo quindi giustamente soprattutto quando sono molto vicini e quando si è lontani da barriera comunque la contribuzione è praticamente data da tutti poi più uno sale e meno pesa quindi più si allontana dalla barriera dallo strike più scende il suo delta quindi la sua contribuzione va bene allora ce n'era un altro che aveva anche un settore airlines però in realtà volevo vedere con te Alessandro un certificato almeno sulla carta un po' più tranquillo ma anche con una possibilità una possibilità di rimborso anticipato a breve che tra l'altro un'emissione che ha questa cedola fissa incondizionata no questo fix cash collect eh l'avevamo visto prima di iniziare e quindi magari Alessandro vediamolo vediamo un attimo assieme certo allora in questo caso appunto vediamo questo cash collect cedola fissa che vuol dire cedola fissa che il pagamento della della cedola è incondizionato rispetto all'andamento dei sottostanti per cui eh la cedola viene pagata eh in questo caso ogni trimestre indipendentemente dalla performance dei sottostanti per cui non c'è una barriera una barriera pre un trigger cedola ma c'è solamente una barriera capitale anche come sempre osservata solamente alla scadenza eh in questo caso correggimi se sbaglio era pari al 50 per cento rispetto all'emissione e ehm appunto se alla scadenza abbiamo eh tutti i sottostanti al di sopra abbiamo questa protezione condizionata del capitale mentre invece nel corso della vita eh sussiste la possibilità di autocollo per cui di rimborso anticipato eh qualora sempre tutti i sottostanti dovessero avere un valore al di sopra del del cento per cento ma la cedola è incondizionata ecco Pierpaolo un tema secondo me interessante visto che prima abbiamo parlato dei diciamo dei limiti sulla distribuzione di dividendi eh per le aziende appunto nel settore bancario è eh proprio la la possibilità eh appunto investendo in un certificato che ha come sottostante eh come sottostanti titoli bancari di andare comunque a ad avere quel quel premio quel rendimento periodico su titoli che comunque eh investendo direttamente nel sottostante non non potrebbero pagare quei dividendi eh che appunto storicamente erano in grado di di pagare questo anche secondo me è uno spunto interessante assolutamente sì anzi diciamo hai fatto benissimo a ricordarlo anche perché quando compri l'azione giustamente sei esposto linearmente e e ai guadagni e alle perdite eh poi dopo ti pagano un dividendo in questo caso appunto sono stati sospesi o ridotti il certificato è già costruito e quindi non è che cambia le caratteristiche quindi effettivamente è molto interessante allora il codice AISIN come considerazione intendo codice AISIN D E tre zeri Verona Palermo otto Genova quadro Napoli quattro ok questo è il codice AISIN ah certificato che se lo guardiamo sull'analisi di scenario eh è meraviglioso perché paga l'undici e settanta praticamente a un anno e cinque mesi e lo pagherebbe fino a meno cinquantasei per cento da parte del peggiore tre sottostanti il problema se vogliamo chiamarlo problema è che potrebbe non arrivarci alla scadenza perché perché abbiamo i tre sottostanti che sono Commerce Bank Unicredit e BNP Paribas che sono tutti e tre positivi sopra strike tra l'altro quando io vedo queste eh schermate del chat lab con l'andamento dei tre titoli mi viene sempre in mente no le operazioni di spread trading cioè questi sono tre titoli e sono stati stesso settore bancario tutti e tre rilevati nello stesso giorno a distanza praticamente di da settembre duemilaventi BNP più cinquanta per cento e Unicredit più quattordici per cento e anche commerce quindi grande differenza di performance quindi ad oggi tutti e tre positivi di cui due a più quattordici per cento quindi vuol dire che il ventuno giugno potrebbe già andare in rimborso anticipato e se lo facesse rimborserebbe cento due virgola uno euro l'acquisto oggi a cento virgola otto quindi è comunque un punto e tre o circa uno virgola tre per cento a poco più di due mesi non ci diventiamo ricchi ma insomma è una situazione interessante a maggior ragione perché se non dovesse rimborsare perché magari appunto i bancari in particolare Unicredit e Commerce Bank dovessero tornare un po' indietro a quel punto come hai detto tu le cedole sono a prescindere pagate e poi la rilevazione la faremmo solo alla scadenza e quindi a quel punto questa sarebbe l'analisi scenario vera Giuseppe dice magari con le commissioni certo Giuseppe se tu paghi qua poi dipende molto effettivamente anche dal trattamento che si ha con la propria banca eh perché se uno paga lo zero diciannove ad entrare l'uno e venti l'uno e trenta ti rimane l'uno e dieci però è pure vero che a volte insomma ci sono commissioni un po' più basse piuttosto che fisse quindi ecco quello costa poco se poi lo porti al rimborso anticipato non le paghi eh quindi dipende però in linea di massima l'uno e trenta a due mesi comincia ad essere un sette per cento annuo non è proprio così male no si può ripetere l'aisin die tre zeri varona palermo otto genova quadro n4 e forse i prezzi delle banche ora sono un po' sostenuti dall'attesa del dividendo se c'è la revoca l'azione potrebbe scendere del certificato salire di prezzo oh è interessante questa Alessandro cosa ne pensi di questa considerazione che è tutt'altro che 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 campata in aria cioè se i titoli bancari no che adesso sono a più quattordici per cento scendessero avvicinandosi allo strike effettivamente potrebbe esserci quasi un effetto di prezzo che non non è che poi scende tanto anzi paradossalmente potrebbe addirittura apprezzarsi non so se hai compreso quello che che sto che che voglio intendere che voglio dire apprezzarsi non ho capito esattamente perché perché praticamente adesso e credo che sia quello che sta dicendo anche Michele vediamo se ho capito bene adesso c'è un cap implicito a cento due virgola uno dato dal fatto che ci potrebbe essere con buona probabilità il rimborso anticipato a giugno se uno dei titoli scendesse sullo strike andando ad esempio al novantanove per cento non ci sarebbe più quell'alta probabilità che c'è oggi di rimborso a cento due virgola uno e il certificato inizierebbe data anche la durata tutto sommato breve inizierebbe a leggere le successive cedole che sono comunque incondizionate quindi ci sarebbe il rischio come si è visto già in molte altre situazioni che il certificato anziché a cento virgola otto dove stai oggi magari va da cento uno virgola cinque una cosa del genere cioè il fatto di avere le cedole incondizionate permetterebbe al certificato di iniziare a guardare con più probabilità al fatto che dovranno essere pagate tutte questo intendevo e soprattutto in funzione del fatto di una barriera al cinquanta per cento che quindi metterebbe in ogni caso ancora al riparo il pagamento dell'ultima cedola e soprattutto il rimborso del capitale come lo vedi questo ragionamento? Sicuramente è uno spunto interessante diciamo che quando appunto abbiamo una situazione simile a quella che vediamo in questo caso il prezzo del prodotto del certificato tende mano a mano appunto che ci avviciniamo alla data di valutazione e abbiamo tutti e tre i sottostanti sopra sopra lo strike tende ad incorporare appunto un eventuale valore di rimborso per cui chiaramente adesso abbiamo ancora una distanza temporale da qui all'eventuale data di rimborso ma sicuramente se le cose rimanessero così il prodotto tenderebbe a scontare ad incorporare nel prezzo il rimborso se invece come dice Pierpaolo dovesse appunto andare a diventare meno probabile ma meno probabile il rimborso ma diciamo più probabile il pagamento di di tutte le cedole future o comunque di di più cedole rispetto alla situazione attuale potrebbe avere sì un effetto positivo sul sul prezzo però quantificarlo diciamo no no certo no no Alessandro assolutamente no fai bene a dirlo che naturalmente io ho una articolazione diciamo no no diciamo che mi sono spinto io no in un'approssimazione ma giustamente eh non si può squantificare però era uno spunto interessante per cui ringrazio Michele e ringrazio anche te Alessandro e mh vediamo ancora un altro certificato eh in questo caso ne abbiamo due o tre ancora da vedere anche se i tempi sono abbastanza stretti ne vediamo uno eh qui e poi rispondo a una domanda che era arrivata allora in questo caso abbiamo un certificato che è un po' una vecchia conoscenza anche questo è messo prima eh praticamente proprio alla vigilia della discesa covid di un anno fa il venti febbraio duemilaventi pertanto gli strike iniziali adesso lo vedremo sono comunque strike importanti eh se così vogliamo dire Violi a ventotto euro e ventisette Eni tredici e zero uno e on undici e trentatré Iberdrola undici zero settantatré anche qui si può notare come l'andamento sia stato diciamo molto diverso tra eh tra il primo e l'ultimo titolo però i worst off in questo caso sono praticamente due eh sembra impossibile che siano entrambi worst off ma sono appaiati a meno ventuno per cento circa Veolia e Deni quello che c'è di buono anche in questo certificato è la posizionamento della barriera al cinquanta per cento quindi nonostante la discesa che c'è stata fino ad oggi il certificato ha comunque ancora un'ampia protezione soprattutto paga eh dei premi non elevatissimi perché in quell'epoca il la volatilità ancora non era salita è salita dopo un paio di settimane dopo una settimana comunque uno e quarantatré a trimestre però pagato in questo caso sulla barriera del cinquanta per cento ma la caratteristica interessante inoltre oltre a quello stiamo dicendo è il trigger step down come ci dicevi tu al primo Alessandro a proposito di questo meccanismo che permette di incassare il rimborso anticipato prima della scadenza anche qualora i sottostanti scendano e scende bene perché poi alla fine scende del cinque per cento ogni sei mesi tanto è vero che ad oggi è al novanta per cento il trigger per il rimborso anticipato per se guardiamo ad esempio fra un anno di questi tempi sarebbe all'ottanta per cento cioè rimborserebbe il capitale più le cedole ovviamente previste fino a quel momento anche qualora il peggiore si trovi a meno venti per cento dal livello iniziale la situazione ad oggi è questa quindi siamo praticamente a meno ventuno e sessanta e ciò che rende ulteriormente interessante il prezzo è c'è il certificato del prezzo ottantatré virgola ottanta euro quindi se guardiamo l'analisi di scenario anche qui tutto sommato non è che sia poi così male eh perché comunque lo compri ottantatré virgola ottanta rimborso totale a scadenza centoventidue ottantotto protezione da oggi trentasei per cento ed è un certificato che almeno sulla carta non ci dovrebbe portare a far rivedere questi prezzi barriera se non accade nuovamente qualcosa di drammatico e quindi è interessante anche perché si potrebbe arrivare a rimborso anticipato decisamente prima della scadenza e quindi ottenere il rimborso a cento più le cedole ad oggi il trigger eh autocallable dista da oggi il quindici per cento quindi vuol dire che i veoli ed eni dovrebbero salire al quindici per cento ma come abbiamo detto scenderà nel tempo e quindi già ad esempio a novembre sarebbe più vicino detto che nel frattempo ci sarà lo stacco dei dividendi da parte dei vari titoli qui giusta osservazione le cedole non sono con memoria quindi bisogna fare attenzione eh che i titoli non vadano sotto la barriera però non ci sono mai andati neanche nel peggiore dei momenti sono state tutte pagate eh fino ad oggi quindi ehm questo è è interessante il codice ISIN di E30 Verona Empoli 66 Palermo Torino 2 e questo è il certificato eh un altro dei certificati che volevo vedere con voi scusa Alessandro se sono andato un po' rapido ma il tempo sta sta diminuendo non c'è problema allora vediamo un attimo ecco qui allora ci è arrivata una domanda su un certificato che ho mostrato all'investiv di lunedì è un certificato che avevo premesso sarebbe stato interessante in una prospettiva di potenziale rimborso anticipato a breve il sottostante è il titolo Unicredit Unicredit che adesso andiamo a vedere oggi purtroppo come sappiamo ha perso circa eh cioè oltre il tre per cento e il motivo di interesse è perché il ventidue aprile quindi esattamente fra quattordici giorni ci sarà l'opportunità di rimborso anticipato del capitale e se non ci sarà la condizione per il rimborso anticipato ovvero che Unicredit a quel punto sarà sotto lo strike iniziale ci sarà comunque il pagamento di una cedola dell'uno virgola cinque per cento a meno che Unicredit non perda il trenta per cento eh circa in questi quattordici giorni cedola in ogni caso con memoria eh questo per dirlo ehm allora la situazione attualmente è questa Unicredit strike otto virgola novantasette e quaranta ad oggi saremmo sotto ma praticamente l'ha persi tutti oggi quindi a ieri era a suo strike otto novantasette e quaranta oggi si è allontanato il certificato si compra a novantacinque sessanta quindi vuol dire che praticamente oggi posso comprare a novantacinque sessanta se in questi quattordici giorni Unicredit recupera ciò che ha perso oggi il certificato è rimborso a cento uno virgola cinquanta quindi sono sei punti percentuali a fronte dei tre e mezzo che Unicredit deve recuperare attenzione però attenzione questa è la lettura dei prezzi c'è da dire che il diciannove aprile Unicredit pagherà un dividendo quindi attenzione perché questo è un errore che a volte si commette non considerare lo stacco dei dividendi dividendo di di dodici centesimi quindi ci si allontanerebbe ancora di circa un punto e mezzo quindi certificato può pagare sei punti e Unicredit te ne deve recuperare cinque voi direte a questo punto mi compro Unicredit naturalmente può valere anche questa considerazione la differenza è che se compri Unicredit e Unicredit sale del tre per cento va bene magari qui ti incassi la cellula dell'uno e mezzo e può andare poi in rimborso anticipato a luglio quando ormai il dividendo sarà già stato staccato e poi se ne parla l'anno prossimo quindi certificato che può funzionare sia in ottica di rimborso anticipato adesso il 22 aprile sia per tenerselo lì perché comunque vedete la barriera è da oggi a meno 28 per cento ed è vuotato bene sulla lineare cioè vuol dire che se Unicredit perde il 28 noi perdiamo il 27 per cento questo sempre al netto dei dividendi quindi la domanda era la strategia è ancora valida naturalmente sì è stato oggi una giornata particolarmente negativa si spera che non si ripeta questo questo è evidente e che magari possa rimborsare anticipatamente però oggi a questi prezzi è comunque eh interessante codice Aisin ci chiedono di e tre zeri Verona Palermo sei domodossola x quadro quattro ok Alessandro che vogliamo fare vogliamo vederne un un ultimo o ci fermiamo qui o vuoi vedere qualcos'altro secondo me se abbiamo tempo per vedere un altro io ci sono ok perfetto allora guarda ti propongo ti propongo ti propongo di parlare di questo certificato qui che ha come sottostanti il settore petrolifero emissione a maggio duemilaventi quindi eravamo anche in questo caso insomma una situazione abbastanza critica per il settore petrolifero certificato eccolo qui te lo lascio commentare allora in questo caso appunto vediamo un altro cash collect sempre eh con una cedola eh se non sbaglio eh in questo caso è semestrale giusto per Paolo sì eh semestrale del 4 e 24 per cento con una barriera ehm sempre allo stesso livello sia per quanto riguarda eh il trigger cedola che per la protezione del capitale a scadenza del 60 per cento e magari ecco andiamo a vedere eh i sottostanti anche vediamo come siano eh sia Eni che il Repsol siano eh al di sopra del dello strike mentre il worst of è British Petroleum che si trova sotto del eh 2,85 se non è giusto ok e in grandi stupioni ok per perfetto grazie e come abbiamo detto prima questo in questo caso è anche interessante andare a vedere quello che potrebbe succedere eh su sul sul settore petrolifero visti anche gli sviluppi eh appunto del delle conseguenze delle varie restrizioni eh causati da dalla presenza di appunto dalla persistenza della pandemia e dalle restrizioni eh che comporta però sicuramente in questo caso in particolare vediamo come eh sia Eni che Repsol siano in grado di di stare al di sopra mentre invece ecco andiamo a vedere proprio British Petroleum esatto stavo guardando intanto c'è un piccolo dividendo che comunque paga dei dividendi ogni tre mesi quindi di paga per la data del sei maggio paga un un quarto del dividendo mh e quindi British Petroleum in questo caso appunto data di osservazione tredici maggio poco prima staccherà un quarto del dividendo quattro e ventiquattro per cento la cedola semestrale e quindi qui Alessandro sì diciamo è quello che hai detto è assolutamente condivisibile in una prospettiva di di ripresa il certificato potrebbe addirittura rimborsare anticipatamente già a maggio affermo restando che poi tutto sommato non serve chissà quale recupero no perché eh British Petroleum è a meno due ottantacinque se recuperasse circa un tre per cento il certificato che oggi si acquista cento virgola venti cento virgola venti rimborserebbe già adesso a maggio cento quattro virgola ventiquattro quindi ha pagato la precedente cedola cento quattro virgola ventiquattro se non dovesse rimborsare paga la cedola solamente del quattro e ventiquattro e va avanti di sei mesi fino ad arrivare poi a novembre analisi di scenario anche qui a mio avviso comunque interessante perché è un trentatré e sessantacinque per cento da qui a novembre duemilaventiquattro sono tre anni e mezzo precisi e quindi è circa un dieci per cento annuo eh poco poco meno forse insomma all'incirca un dieci per cento annuo con una barriera meno trentotto per cento quindi certificato che tra l'altro è nato con tre titoli ad oggi ecco qui forse è la dinamica dove il worst off comanda decisamente più degli altri due no? Cioè gli altri due hanno un ruolo però evidentemente è molto più legato a British Petroleum che è eh l'unica che è sotto gli altri sono a più venti e più ventiquattro per cento ehm l'Aisin eh certamente di E tre zeri Verona Verona Palermo tre Torino Zeta K5 eh ci ci dicono ehm Alessandro ci chiede Giancarlo non abbiamo visto neanche un certificato con cedole mensili che tanto mi piacciono ma ce ne sono però effettivamente la tendenza è più sulle trimestrali o semestrali vero? Eh sì ce ne sono mh sicuramente la maggioranza dei la maggior parte dei certificati che abbiamo diciamo nella nostra nella nostra gamma è è più con frequenza eh trimestrale adesso così a memoria me ne viene in mente uno che secondo me eh era comunque interessante che ha come sottostante singolo Tesla e che aveva anche un non aveva proprio degli strike allora guarda facciamo così sottostante Tesla così lo vediamo se vuoi ti do anche l'Aisin che me lo ricorda ah se tu lo ricordi già sì certo ma se no guarda lo lo troviamo da qui allora innanzitutto sono 48 i certificati con cedola mensile eh che ci sono ecco è tra questi quattro esatto il penultimo ok quindi questo qui allora novecentosessantasei e novanta sì chiaramente in questo caso l'emissione è stata su su dei livelli un po' più alti rispetto a quelli attuali però eh vediamo comunque una barriera al cinquanta per cento se non sbaglio eh ai quattrocento circa 396 sì esatto eh in questo caso appunto la cedola è trimestrale no se mi direi mensile ma sì ma hai ragione e mensile è del circa dell'uno virgola cinque per cento uno virgola quarantotto per cento per appunto rendimento annualizzato del diciassette se non sbaglio virgola otto qualcosa del genere giù di lì e la barriera è del cinquanta per cento e la prima data di autocall questo è stato emesso in gennaio la prima data di autocall era dopo sei mesi dall'emissione per cui dovrebbe essere la vediamo anche ecco nella schermata il quattordici la valutazione il sette luglio che è rimborso il quattordici ehm appunto la cedola è mensile e con memoria per cui si può andare ad ottenere questo eh rendimento mensile dell'uno quasi uno e mezzo per cento e il sottostante è singolo eh per cui non andiamo a non abbiamo bisogno di occuparci di quella che è la correlazione o del worst off perché appunto si guarda solamente eh la performance di di tesla e questo è uno di quelli che mi viene in mente così su due piedi con con cedola mensile ma ce ne sono molti altri come ha fatto appunto eh sì infatti diciamo che poi qui insomma di interessante c'è il fatto che tesla si è vero che sta vivendo una fase di 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 relativa debolezza però tutto sommato la barriera a trecento novantasei è talmente lontana eh qui forse ecco non rimborsi potrebbe non rimborsare anticipatamente perché lo strike iniziale è stato fatto in area ottocento ma insomma se vuole lo recupera domani tesla eh quindi non è che che sia una cosa del tutto improbabile eh però seppure non dovesse rimborsare anticipatamente prendi una cedola mensile dell'uno e mezzo sul singolo sottostante quindi ok può essere sicuramente ecco anche la scadenza è breve no perché quattordici luglio un anno e tre mesi prezzo lettera novecentosessantasei e novanta quindi si compra sotto la pari Stefano e e questa è l'analisi di scenario quindi almeno quarantadue per cento c'è il posizionamento della barriera valida sia per la cedola che per il capitale va bene allora ehm direi che possiamo fermarci qui ci sono stato un paio di idee che ci sono state date allora vediamo qui che ci chiedono l'aisin 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 allora di e tre zeri per una quadro ventisette domodosso la ventisette va bene allora c'erano eh questa te la leggo me la ricordo che è arrivata proprio all'inizio eh quindi ti chiedo se hai memoria di questa cosa se c'è qualche certificato su materie prime tipo rame oro ehm sì non la ritrovo comunque ecco di recente emissioni allora certificati mh con queste strutture che abbiamo visto adesso per cui sempre express premio periodico e capitale condizionatamente protetto eh la risposta purtroppo è no abbiamo solamente su eh azioni o indici per quanto riguarda la gamma di prodotti a leva veramente ce ne sono di tutti i tipi eh partire dalle materie prime eh soft commodities soprattutto ecco esatto su leva fissa eh soft commodities metalli preziosi tassi di cambio abbiamo anche il 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 bund addirittura se non sbaglio sì ecco qui per cui dipende da dalla tipologia di prodotto che si va a ricercare eh per quanto riguarda come dicevo i cash collect ehm per ora abbiamo solamente come sottostanti azioni ed indici allora quelli visti oggi sono tutti quotati su borsa italiana sì mi sembra Alessandro vero esatto tutti quotati sul sedex di borsa italiana perfetto va bene allora siamo arrivati in conclusione eh io ti ringrazio Alessandro anche della disponibilità un po' oltre l'orario ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e anche per le tante domande che sono arrivate più o meno siamo riusciti a rispondere quasi a tutti ce n'era una di Sergio all'inizio che riguardava un certificato eh di cui però non siamo riusciti a vedere ehm Alessandro a te per se vuoi aggiungere qualcosa e innanzitutto ringrazio appunto tutte le persone che sono rimaste anche oltre l'orario prestabilito e e niente ci vediamo al prossimo appuntamento nel mese di maggio eh in cui appunto parleremo a questo punto direi di passare magari a a prodotti a leva o anche a ai tracker per per coprire un po' non solamente Fontobel non non emette solamente prodotti di investimento tipo cash collect ma abbiamo un'ampia gamma di certificati eh un po' per tutte le tipologie di investitori trader e quindi è anche interessante andare a coprirla tutta ecco assolutamente sì ci chiedono se le slide saranno disponibili quelle che hai mostrato prima magari possono scriverti certamente si può inviare una mail a certificati chiocciola fontobel punto com e invieremo tranquillamente le slide volentieri benissimo grazie Ilario sempre un piacere eh bene allora Alessandro ti ringrazio vi auguro buona serata a tutti appuntamento al prossimo webinar se non ricordo male in programma il venti maggio ma comunque poi se siete iscritti a tutto il ciclo vi arriverà sicuramente la mail ciao Alessandro buonasera da tutti ciao Pierpaolo buonasera a tutti